Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Roma code a tratti tra Aglio e Calenzano e tra Firenze e Scandicci e Incisa Reggello, e in direzione Bologna tra Firenze e Scandicci e Barberino del Mugello. Sulla variante di Valico, in direzione Roma, code a tratti tra il Bivio con l'A1 e Badia. Sulla A12 per traffico intenso, code allo svincolo di Rosignano. Sulla A15 in direzione La Spezia per traffico intenso, code tra Pontremoli ed il Bivio per la A12. In A11 in direzione Firenze, chiusa l'area di servizio di Migliarino Sud per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!